Edder, Mech, Pallister Aggiornamenti sul caso della scomparsa della piccola Kata a Firenze è confermato che le tracce matiche sono state trovate solo in una stanza Si era ipotizzato anche che Kata fosse stata trasportata all'interno di un borsone ebbene secondo le prime analisi all'interno dei borsoni non c'è nessuna traccia della piccola Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale Edder, Mech, Pallister